Allora, allora, aspettate, allora, buon pomeriggio a tutti, buona domenica, buona Halloween a tutti, ora aspettiamo che entriamo la prima versione come sempre, poi leggo anche i messaggi di prima della live, mentre poi ci sono tutti, se almeno ecco, ciao Fra, ciao Fra, ciao Simone, ciao Nico, voi a 10 ci diciamo, madonna, ma che sei i gruli ragazzi, cioè, boom, 30 secondi 10, allora, leggiamo tutti i messaggi, dai che tra poco inizia, forse sta a scuola, l'abbiamo giocato contro l'Empoli, in bocca al lupo, se tu lo vorrai, ok, se non me vince la prima volta, speriamo, mi gratto, però il magino della vittoria del Verona, l'avevo letto un po' prima il messaggio di Marco, immagino, ma sì, oggi dobbiamo vincere a tutti i costi, ciao Kexmi, certo che mi ricordo di te, appunto ciao Fra, ciao Nico, ciao, io c'è sì, molto bellina, ciao Simone, certo appunto, ciao Giacomo, ciao Calciananta, come stai? Buon pomeriggio a tutti, proprio ne siamo usciti, non capisco, non capisco che sono dei bot, queste pure sono persone che mi seguono, questo non si vedeva ancora aprire, però vabbè, nel senso, che si fa le views a più che bene, oggi è giornata veramente nite a Firenze, sole, non mi metto gli occhiali perché non vedeva nulla, lo so, grazie Simone, andiamo a vincere un avversario che ha la sua carta, siamo il tribù di loro, però sapete come è il calcio, non è scontata questa vittoria, ha rotto le palle a molte squadre, ha sempre parlato anche a Juve, ok la Juve è, però, nel senso, ciao, no, non è da sarebile, l'atteggiamento qui che altro, appunto sì, ma sto credendo con un pazzo quello contro di me a Corredderon, gli ammessi entrambi in panchina, ciao Fausto, gli ammessi di Juve Sassuolo, beh, un'impresa clamorosa del Sassuolo sicuramente, però ecco, nulla da dire, a Juve è in questo periodo, Sassuolo è stato bravo, ha sfruttato le occasioni e ha vinto una grande partita, complimenti al Sassuolo, però tra i di fila non le perde, non è per guppare, ma non le perde, non le perde ragazzi, non le perde, noi si passavano a Torino con la Juve, io andrò a Torino Ciao Cristian, buona domenica a te, e buon anno vinto a tutti, lo ripeto, dopo 5 anni abbiamo vinto, eh sì, non vincevate l'alto lontanissimo, 2015, 2016, 1-0, 2-2 Deron, lo so, che pippone a Verona, ti fa pena a Verona, ciao Marco, buongiorno, buon pomeriggio, insomma a te, forza Viola, sì, forza Spezia anche io contro Vlaovic, non ti sto vedendo come un riccio con la Juve in crisi, ma tanto si ripiglia, si sa come Allegri tutte le sue squadre poi si ripigliano sempre, allora, dopo 3 giorni si torna a fare live, e niente, stavo a mangiare per pranzo, mangio, basta, basta ragù e via, stavo mai forzito, sempre, non faccio, ma stasera con i miei amici, stiamo insieme a giocare, è interessante, no, che derone, derone un pittone sopravvalutatissimo, allora, Juve da Serie B, sì, per come sta giocando, però non ci andrà mai, se si vince, se si vince con almeno un gol di, aspetta, se si vince con almeno un gol di Zodomo, ah ok, perché ce l'hai al Pantheon, quindi gioca una gara, mi sembra, l'hanno letto le firmate, ma ora li andremo ad urlare insieme, forza Spezia scrive il signo, no ragazzi, non si può sbagliare oggi, visa vince, visa vince a tutti questi, non so, no, andrà, speriamo, di noi vorrei un gol di Castrovilli, comunque dai, spezia, spezia, è chiaro, se siete lì a 19 punti, mi sembra, diciamo a 15, se si vince a 18, e poi ci sta la Juve, lo sconto diretto, la finale, sottilla al fanta, ok Leo, buon pomeriggio anche a te e Leo, cerchiamo di arrivare a 1630, oggi ne mancano sette, ragazzi ce la possiamo fare, dopo farò il post partita, speriamo bene, facciamo le dita, forza viola, non dobbiamo mollare perché ora c'è un pezzo di stagione clube, veramente, lasciato dal sole, è un problema, non dobbiamo fare nulla, però mi metto a lui, cioè provo a fare una cosa senza il tallone, ora, ora, ora non vi potrei lamentare, ora non vi potrei proprio lamentare, ora mi vedete benissimo, ora mi vedete bene, perché si è, ora sì, anche se c'è il vetro, io non me ne fa nulla, tanto si vede, sì, sì, vabbè, allora, si vede, si vede, tanto mi godo la mia fiesola, come sempre, e niente, allora, se si 2 a 0 l'Inter ha vinto, io ho già fatto, abbiato, ok, io ce l'ho contro, tranquillo, ok, dai, che con l'Empoli vinciamo, ciao nome, è una ritorno speranza durissima, non lo so, ciao vince, sì, la c'è della chiesa e ora io ho infiltrato in questa domanda e dico, sa solo uno, Empoli 1, per me pareggiano, aspettate qui, non la piro, pensa mia, la Finsing Pro, aspettate, chiesole, chiesole carica, mi sto qua tanto metà nulla, ragazzi, ne appega poco nulla, ne appega nulla, con le massette, sono le 50, sono le sennò, si vede nulla, speriamo, io stiamo dietro lo stadio fresco, sono fermato da amici e poi ci vanno a fare lo stadio tranquillamente da firenze e via torneremo a ser campioni speriamo speriamo magari io vado a torino comunque grande francia guarda se tu vieni qua tu mi vedi sono al vetro dalla parte della tribuna della peusole sono al vito grande la sua emplina ci sta no no non ho più caso dell'inter oggi da pietà correa ci sta torneremo allora aspetta vediamo un po' la propria del risto per rd colau basconico valenco maggiore stellezza salcedo già di insolanti stress che va bene ora si urla torneremo a ser campioni sì la peusole è veramente bella ciao matteo no non la farò comunque non riusciamo a chiacchierare i giochi se vi sono calma calma mancano ancora 20 28 partiti calma di questa è una ma deve essere 28 ora ora sicuro lo piano deve avere formazione con l'ammelletta del tutto belle comunque sono le spezie eh terrazzano numero 23 numero 4 nirekovic numero 2 luca quarta numero 3 cristiano biraghi numero 5 6 buonaventura numero 18 luca terriera numero 10 caetano castroghilli numero 8 riccardo saperola grande saper così numero 9 rosanna slavich numero 10 capisco non capisco nulla saperi saperi ora leggo tutto un atto aspettate astori grazie a te li per rispetto perché ormai stamorti ci ha sconvolto tutti per amore veramente una tristezza aspettata allora scusa eh appunto io ho detto appunto ciao 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 sì domani è un giorno e mezzo sì non segna più sennò quanto tempo c'è allo stadio ma io penso lì è rimasta 15 mila tutti dai della messa allora un carico seppi eh sì ovviamente simpatizzo tantissimo ho visto l'ex tifoso ok io tipo l'azio simpatizzo spezia non è ecco il poter però va bene ci sta spettivi sono tantissimi sono 900 ragazzi io non li vedo 900 però hanno detto 900 io non li vedo 900 ma sono tantissimi nel settore il settore è stra pieno veramente lo spezia manca qualche pezzo e via ma veramente è quasi stra pieno ma ben via ma che ma ma che masi vuoi fare la sembramento fili ma è un inferno tutti senza ok green pass e tutto è un casino fin che c'è in skill è finenza e carica è finenza e carica è carica finenza e carica carica bello il coro 사를 bella roba bella roba bella roba bella roba bella roba la la la-la la la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la-la-la-la-la e' il tuo nazionale ciao letgo bla 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 napoli caso mai perché ora ci sono da solo mare male sono anni e posti cose ok ci siamo forza per enti in oggi forza per enti grazie ancora iniziata 12 del napoli andiamo a lettire a mezzomane sempre sempre questo capitano della vita storica marrone della storia adesso che la juve in crisi i tanti fusi della juve vogliono allegra ne hai fuori dalla diligenza mi sa che non riesco a prendere ragazzi lo ripeto blauvi c'ha già un accordo segreto con la juve spezia spezia che questi dovete sapere voi ho tutto rispetto con le spezia ma questi più che essere spezzini sono tisani quindi c'è anche sodio una cosa positiva è il fatto che puoi imparare che sia vero due a due ora si ora si una speranza bella roba madonna ciao mario bella roba madonna ciao bella roba madonna ciao bella roba ma per me ci va in che senso non ho capito riformo un attimo il commento non ho capito eh sì oggi bisogna vincere a tutti i posti ricorda che nel calcio è tua la storia c'è Fiorentina ma è male bisogna vincere a tutti i posti ma è male no ma è goliardia ovviamente ma sai ciao Nicolò buon pomeriggio eh sì tanta roba siamo no 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 per favore io non capisco nulla ma anche secondo me bella roba quanto siamo belli quanto siamo belli quanto siamo belli quanto siamo belli lì siamo sono bellissimi no stale stuino stuino basta sotto le pade ma è cambiato male in mare stuino che cosa forza forza anche secondo me è i suonatori che in campo vanno così cioè invece da andare a corre vanno ballettano fanno i balletti alla che babbari veramente un po' dei cialbroni forza violare forza violare forza violare 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 e la vincita vincita tutti vincita tutti vincita tutti servono tre punti ragazzi che fosse vattorino ed è una finale ma perché vai a rinforzare sempre una viga cioè non ha senso perché ora parlando solamente che se ne farebbe l'inter torne è piena lì già fatto il bacino già vaccinato io già vaccinato con entrambe le due con la dose e che io avevo colto vide quindi ho fatto solo una ma io sono già vaccinato e quindi non c'ho da fare nessun vaccino ecco ma non è per ronardo c'è proprio qualcosa dentro anch'io un tono inizio fra pochissimo le mani in pugno le mani in pugno ma speriamo bene speriamo beh io non dico nulla io dico soltanto vincere se non si vince oggi domenica di una bestia però vedete aspettavo via allo stadio contro lo spezia questo vuol dire proprio che colmina saranno 30 mila non mi auguro che saremo almeno 25 mila perché sempre un supporto morale contro il milan per un supporto veramente di quelli pazzeschi servizio da giurare questo è vero della nazionale mondiale del 2010 ma ci sarà stato glorioso sicuramente un glorioso che è Marcello lì non lo sapevo sentire la poterla la poterla forza ragazzi forza si attacca sotto la ferrovia poi si attacca di qua fa per iniziare per l'entina spezia come sempre in ritardo la lega italiana figli di e p terminale si perde speriamo che no hanno 11 voglia il colore più bello che c'è comincia la nuova battaglia ragazzi nessuna pietà alziamo le mani al cielo la urba bello da per iniziare corentina spezia italiano ovviamente inquadrato ex di questa partita che ha fatto salvare lo spezia lo scorso anno un rendimento incredibile veramente con una squadra che era data per spacciare belli fate una cosa che vi consiglio lo spezia favolosi con le sciarpe peccato non erro tra l'andelli se non erro magari mi sbaglio il colore più bello che c'è no proprio questo passaggio fin dello spezia occhio pericoloso spezia trova subito da attaccare ma è male ma non si può sbagliare il pallone più dello spezia attenzione ancora la squadra che è a caso boh boh ma la Juve non può usare soldi a pagare se sta comunque lo spezia è bellissimo fatele una foto fatele qualcosa perché sono belli veramente belli il pallone oh chiudilo no 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 il tiro oh ma ne manca dai forza finiamo svegli non si può che sia così speriamo speriamo bisogna vincere tutti i ostri se vuole andare in Europa bisogna vincere tutti i ostri oggi e andare a tenere con 18 punti così se perdere ti rimane a pari punti la Juve non ti va sopra vai 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 ora vai ora vai ora non hai avanti un medellugra spezia con l'ex anche di questa partita l'altro è il safonaro il pallone per sottile arriva riccardo sottile attenzione sottile sottile troppo centrale troppo debole il tiro da parte di riccardo sottile dopo un minuto e trenta si presenta in avanti questo bel tiro di sottile ma è appena iniziata non c'è da nè nulla ancora conte questo è vero ma non lo so ragazzi non ce la può più fare questa oh no no non c'è nulla vai vai gioia 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 nostra vai 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 forza adesso dal tuo più senza mai la sua sai ti lascia tu e comunque andrà in segreto perché così io canterò scLC così ne vince ragazzi va bene tranquillo va bene va bene va vai andiamo forse dai la terra con calma ragazzi bisogna però cercare di fare subito qualcosa perché lo spezia lo sapete come è non è una squadra che ti lascio uscì al mi sembra ai quarti contro la Germania si è a quarti contro la Germania calcino di gore il rigore decidivo lo piace a Hector questo è vero io ormai soldi non ce l'ha tanti figuriamoci anche a Ose io mi ho messo a sì sì quarti quarti no chiudilo oh io veramente ma non vale la falla ma che sei gru maremma maremma sveglia cavolo sveglia porto schifo sveglia ma io guarda che si ferma senza di affiscare l'arbitro e poi deve intervenire il guardalino e dai fiscale non ho parole mi rende la parola per quattro dai ragazzi dai ragazzi dai io non ce la faccio no 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 nessun colpo lo spiegate quarta è rimasta in terra una fiscale arbitro giola stava continuando ad attaccare e andava in porta da solo se infortuna l'arbitro con l'intervento del suo assistente guardaline sulla sulla parte sinistra ha intervenuto e ha fiscato il pallo insomma nel calcio del 2010 ecco non lo so proprio forse gironi forse è gironi non mi vorrei sbagliare magari mi sbaglio sicuramente però mi avessero sono nemmeno gli avessi 5 anni ragazzi infatti gironi sembrava gironi c'è un fallo di maggiore restano già anche un po' della forentina un po' così perché magari deve esserci un fallo non cattivo un fallo un po' dato però ecco nulla di che perché così io canterò ale 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 fiola dai siamo ancora più di 20 porti mettiamo oggi la live nella parola cercare Vlaovic troppo però il troppo lungo il pallone per l'attaccante serbo rubra palla Ivan e Provedelli e sono ancora lì ma loro tanti sono ma è normale siamo a distanza di 100 km più o meno calma calma esegue un rinvio lunghissimo e quindi il pallone che viene gestito dalla forentina un'interazione della passata a Milenkovic si va da sottili ancora la forentina sottili il pallone che arriva sulla sinistra a Biraghi attenzione al pallone per la forentina qui bravo bravi bravissimi il tiro no peccato peccato non ho visto che ha tirato buona avventura peccato madonna peccato 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 bella azione dalla forentina qui bel triangolo mi sembra con Castrovilli no no guardalina guardalina alza la bandierina forse ventina spezza finì 3 a 0 si peppetta di Castrovilli no golle assist di Castrovilli Vlaovic e l'altro un buon record ma finì 3 a 0 e all'andata finì 2 a 2 si erano Biraghi e l'altro non mi ricordo peccato biraghi e peccato e dello spezza sono verde l'altro zolano numerose noi siamo la florentina dai dai forza forza da firmare il contatto blavig ma guarda speriamo tira no non ci credo no peccato deviato il tiro di sua fare occhio occhi a jasi bravo terra vabbè rimesso la perale per lo spezza è un po' di attacco sveglia di formare il nome connegate il cervello no 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 così hanno segnato che ha segnato cosa ma proprio ben segnato l'oppietta simeone e meccani castro segna non lo so guarda scena sinceramente non lo so se prima fa hanno fatto una bella sempre un buonaventura l'avventura prossimo la via del tiro che arrivare da forza castrovilli però la fine ha tirato il gioco qui di rientri da parte di che ora lo vedo chi è a sanzieri la vita brutta parla che gioca erlic al posto di riso che si è fatto male nella fase di caldamento c'è un buon ormai o milenco vinci fanno la rizzo ma che fallo non sono noi dai dai ma che fallo era io sinceramente preferisco berardi però nel senso sono giocatori completamente diversi però se io parlo di giocatori in generale mi piace più berardi io ho un simone in panchina dai ragazzi 1 minuto sempre 0-0 tra Fiorentina e Spezia per saponare a cercare lungo bella pala qui mettila dentro mettila mettila conmettila vai toffiamoli con saponare la mano alla fiera questa non la so proprio non siamo gemellati gemellati no una volta a sera non siamo più gemellati si passava solo si sta attaccando via sta palla via sopra alla via bella 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 cazzo cazzo vai lo farò figlia tirante madonna no adesso peccato colpo di testa di glauvis che finisce fuori ma c'è stata una deviazione sarà calcio d'angolo per la Fiorentina stiamoci un po' più vicino almeno magari non vedete ste sbarra ma così segna per noi forza Fiorentina che qua grazie a me vedo vedo tra le solite tutte vai 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 è buona battiamole bene in salto le vantaggi dai seriamente battiamo ecco la gufa va bene ora fa tre due metti la dentista palla ciao cizzo da metti da dentro metti la palla tira metti 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 forza ma ma e chiama e sono 10 no io ma perché io tutto bene come sta sono ben metto il posto se non si vediamo la muscinata segna per noi forza fiorentina la odino il momento con il gusto va bene la 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 segna per noi forza fiorenti stiamo lì via via segna per noi vai 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 sorrera vai sorrera il lapone per la sottile sottile sulla fascia sottile sulla fascia sottile non lo tengo le spese torna dietro avvenuti con la Fiorentina avvenuti la parma per milenkovich dai ragazzi segniamo forse brutto bruttissima sta palla oh no 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 oh madonna buona terraccia ma io io fare male madonna mamma mia che cosa hanno fatto madonna non è che sono sempre ultimi che mi metto sennò mi rompono le palle perché parli perché qui perché là lo so maremacane maremacane sono dei maledetti ma non perché sono cattivi gli spezzini ma sono maledetti loro in campo c'entrò l'anima non hanno da perdere nulla hanno da vincere oggi provare a vincere loro ma non cioè partiamo un po' sì dai e la storia Davide Stori Davide Stori Davide Stori questo è vero vai dai 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 vai 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 no no madonna ragazzi cazzo veramente se non si vince oggi guardate ragazzi se non si vince dai po' ho visto beh la Danemark 2 a 1 con il Dams che è in e quell'altro lo fece Sterling sonnero no forse no non me lo ricordo dell'altro di una niente da zero ok dai 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 la vai non sta nemmeno andando male nel senso chi c'è con il Milan deve venire in tiesa deve venire in tiesa a tutti i costi perché si canta si urla, ci si diverte io salterò è il bianconero questo è il doppio senso perché la spezia è bianconero vai in mezzo si sente già il clima partita il sabato prossimo alle 6 a Torino io dove andrò sicuramente stai tranquillo stasera Cristian il non salta bianconero via sta palla via oh no 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 oh oh no 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 chiudilo madonna via fallo eh fallo godo cosa ha fatto? per la sicurezza nostra e di chi vi sta intorno vi ti chiediamo ad osservare le seguenti regole per tutta la vostra griglia permanenza di giandolo stanno giandolo spesso basta madonna in caso di mascherina grazie per me non si vince comunque con la Juve impossibile forza inale ale forza viola ale dai forza sole grande buon pomeriggio buona domenica buon Halloween buon tutto ecco come tu sai ma guarda Riccardo ancora non c'era entrare del tutto in partito gli spezzi ha avuto due occasioni clamorose una con la grande parata di Tarciano anche se era un po' riso e una con un tio di insolano ammurato ma deve essere pericolosissimo fallo io di Rintina sono due speriamo c'è che parla il speaker dell'estate e ale sa Florentina ale forza viola vai e poi vai se mi rovesciava mi dice sortilla tira no che ha cattivato d'astrovilli peccato bravo così e ale forza Florentina ale forza viola ale e va e va e va a morire e va a morire e non la morisce e roba da ammaiare e roba da ammaiare e roba da ammaiare e roba da ammaiare ma non la io è entrato a dieta ok allora spiego perché non sono live in questi giorni sempre a parte un po' lo studio mi ha levato le sere eccetera ma mi sono anche voluto un po' riposare perché ragazzi io per tre mesi mi sono fatto veramente un c così e ho voluto riposare un po' ora sono tornato faremo oggi video e post partita cioè live e post partita della Farentina domani magari non penso nulla oppure ora guarderò cosa fare e poi martedì torna la centes quindi si farà la certezza lega Europa League e tutto io ho Buonaventura Milenkovic e Blauvic se che si lascia il mio dovrebbe arrivare Camaraglia tanta roba si deve lasci segnare in realtà come l'Alvarez e Belotti bella bella roba Alvarez che si alla Fiorno non lo so non si dà 5 milioni a Blauvic per la fine tu me dai ti botta quegli altri ho già risposto Cristian l'ho già detto come finirà ma speriamo speriamo di vincere io non dico nulla però sennò poi non mi piace forza Fiorentina forza viola allora oggi allora pensiamo intanto oggi cosa vince si aspetta si aspetta allora e va a morire ovvia ma è male ma è male schipale vetti godo schifoso e che palle terzo falle fa l'ha morito veramente pensiamo a vincere oggi poi si vede come si cosa si può fare a teoria ma non dobbiamo esaltare a punto salva Ferrer 2 a 2 ho conto con te ok Andrea Roma Minanzaro 1 ci sta per me pareggiano questa sera non non vedo una squadra sopra l'altra ecco ve lo dico sinceramente dai dai siccome mantiene il suo ritmo rispetto 19 20 va benissimo l'importante è che ci si riverta poi cioè se no poi ci si fissa troppo solo me su rispetto ma non solo io ma tutti finché ci divertiamo eccetera questi capri ecco la punizione per la fiore dai dai ora è buona dai ora è buona forza viola dai ragazzi Viraghi su più di battuta mi sa che andrà in mezzo ma c'è anche torre attenzione in parte Viraghi il tiro sopra la barriera poi esce fuori Roma Sena Diaz ci sta forza viola tanto di ciò ci sono quelli che fanno la un po' 3d lo so già final inter non è qualcosa di impossibile veramente ovviamente la juve crisi nel 2012 Milan Inter veramente difficile non lo so ragazzi 1 a 1 1 a 1 1 a 1 io dico 1 a 1 tra Milan e Inter sì 1 a 1 adesso saltiamo scrive Andrea vedremo sono all'esternità così almeno nessuno mi rompe le palle mentre parlo Tommy sono della parte della tribuna che mettermi lì in mezzo a tutti 2 3 dice Simone ma da vabbè vedremo ragazzi vedremo forza Viola dai dai occhio bravo ora 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 tagliela 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 madonna si è perso tutto dai bravo Jack andiamo al tiro in sicuro dai forza dai rimessa parla fiori dai sì si è veramente tanta gente parla fiesole paratona tutto tutto 360 dello stadio dice comunque Simone ok si sblocca questo match e biopali dai dai vai tira no dai angolo angolo dai 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 angolo dai angolo dai angolo 25 sempre 00 sto impazzendo dai ragazzi forza dai ragazzi se l'avete fatto lasciate tutti il like iscrivete perché se siano nuovi mi raccomando e niente vai mettila dentro mettila dentro sta falla vai tira tira non ci posso credo no non ci posso credo maledetto fallo per la argentina faccio in punizione per la viola dai 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 forza forza viola forza viola forza viola ale 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 ditemi ancora live sei tante ancora ditemi un po' un pronostico su juve fiorentina ecco juve fiorentina secondo voi come finisce no no non è ale 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 forza viola ale 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 dai 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 forza 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 siamo così dai vai vai ale 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 vai 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 dai ce la faremo dai dai madonna ma io dico magari per me ci si può ce la possiamo fare a fareggiare quanto meno ripensi forza viola forza viola forza viola forza viola dai madonna mi sto rompendo le palle dai ma perché sa un periodo e farlo giusto che padre ragazzi che palle veramente che palle il terribile la madonna dunque un capito siamo 20 e scrivono praticamente gli stessi io questa roba è allucinante non capisco non c'è verso ragazzi io ho il mini abbonamento tutte le partite in casa fino a quella cosa sola filozze 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 dai dai adesso devo provarmi delle conflette bluetooth senza filo così almeno posso tenere il powerbank in carri a quanto mi pare e via io tutto bene, te come stai? viola 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 ce ne freghiamo vai ora vai ora 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 rigoro oh inna santa di tutto il resto va bene se tu puoi venire qua proprio non si sente nulla io ho già fatto un mio del vetro ma non si sente proprio un cavolo ma proprio nulla dovremo no 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 non l'ho mai vista sinceramente più volentino la squadra di tutto il resto ce ne freghiamo viola 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 aiuto è sempre sta a pentire per tutto l'altro andare a vedere il concordo anche se non è l'autore di questo scempio l'autore di questo scempio è Agniediti è quell'altro schifoso di Netflix secondo me vai 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 tiro tira madonna la mattina prima caccia l'angolo dai non so che ci sta viola 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 la squadra la squadra mi amo il resto ce ne freghiamo si c'è palle scusate palle quando non si è seguiti viola viola speriamo ora mi savi c'è sta partita che sta facendo per il resto ce ne freghiamo il nostro ma perché siamo in quattro io non ho parole io non ho parole perché se la sarà 25 a 14 e così via non lo capisco non lo capisco non lo capisco ma si perdiamo noi sì ma non le fate le sconfitte lo dio da madonna madonna è palle ma perché si posi il mare forzi dai fai saponare ma no vlavic madonna ma no che paga l'anno l'issit 0-3 l'anno lissit l'avic vasa è stato con di alexandre 11 io non ho fatto ragazzi perché bisogna sempre diminuire no 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 via sta palla la squadra abbiamo tutto il resto ce ne freghiamo e fare la forza squadra lo spezia 30 4 3 sempre 0 si blocca sta partita dice poverci ai forza sì allora io vi dico anche un 377 iscritti ai 2000 ce la possiamo fare però l'obiettivo è sicuro dobbiamo arrivare a fine anno con 1800 via sta palla oh no 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 chiudilo maggiore oh ok jazi oh allora madonna che senso aspettate guardiamo quanto è chiuso siamo madonna pochissimi 262 madonna eh ma dipende da partire in partita il suo nome anche si ripena anche da quello sicuramente di tutto il resto ce ne freghiamo eeeh chiediamo che stiamo al 35esimo io vorrei arrivare a fine primo tempo con 400 500 dai dai ragazzi dai forza di tutto il resto ce ne freghiamo a me eh lo so che non è fatto per me si tutto il mare che senso ci sta che dai 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 vai 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 bravo Saponara bravo Saponara vai ma che parola ti ho fatto e allora va beh dai ma che parola ha fatto ma che parola ha fatto provvedere preparata di provvedere ragazzi ma la mala adesso in che senso quando ha sempre no 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 dai ha morito che schifo dai tutto in stadio dai ma che parola ragazzi che parola che parola veramente aspettate eh ci è brutta partita veramente l'occasione ci abbiamo avuto noi la parola provvedere madonna dai forza dai ragazzi dai dai grazie però che è di grande vittoria a Tottenham forza Piole forza Piole forza Piole 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 vai 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 no vai no ma guarda normale insomma non come sempre si sta attaccando ecco si sta giocando male ecco bellissimo di Ivan Provedere violale 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 forza violale forza violale 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 che ne so io vai vai grande fioretina vince ancora per il trast questa urba è tutta viola lotta cantano un derby toscano no che palla non è un derby toscano la spezza e le cure forza grande fioretina vince ancora per il trast ok sarà nel 80 forza grande fioretina vince ancora per il trast forza sempre non ti lascerà forza grande fioretina vince ancora per il trast dove ho comprato la felpa che però non è neanche aspetta dai ma che fai dai non è possibile aspetta dai dai madonna dai lo assedi ora allora è blu scuro però se è manero lo so l'ho comprato a fiorentina a storge i cilli a prato sì è bellissimo questa curva è tutta viola 36 paura ti lascerà ventana forza grande fioretina dai ragazzi vai ora madonna è una sedia dai è una sedia ora è una sedia è una sedia tutta viola quanta sei però ti lascerà letta forza grande fiorentina vince ancora per il trast vai è nostra vai dai sta giocando su noi ora sì sì certo c'è anche sullo store flavio mi raccomando flavio se è nuovo se ti vai scusa se invece sei forza grande fiorentina vince ancora per l'ultras sta giocando bene ora non c'è un bar non c'è un bar non c'è perché quasi un derby sì quasi quasi sì ma non è non c'è non c'è 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 un controllo non c'è nulla non c'è un controllo forza grande fiorentina grande flavio non c'è un controllo barman non c'è un controllo non c'è un controllo per cosa fermi 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 non c'è nulla non capivo non capivo nulla ciao matteo grande no no non lo dava grande Marco io non ho capito di cosa è successo io non ho capito di cosa è successo ragazzi scusate non ho capito scusa c'è un bar per un possibile rigore se ci dà nel rigore godo perché se lo dovrà battere blau non ce n'è il caso io non ho capito nulla certo sarebbe il modo più sporco per sbloccarla però ecco se non c'è solo si dà un letto fermi rigore fermi 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 non ho capito il rigore non ho capito nulla fermi non voglio dire nulla non voglio dire nulla ok un tocco di mano non voglio dire nulla non voglio dire nulla rigore per la Fiorentina no guarda se lo sbaglia vlavice no no ce la fa sì 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 la so l'avete vinto comunque ciao sì calma ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego fermi no no non è rigore per lo spezzo per noi ti prego ti prego dai 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 no 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 vi prego ti prego mi decisivo in sto momento metti la Vlaovic per me è un punto per la salvezza si Vlaovic oltre il provvedente no 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 ti prego si si è la colla si 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 1-0 non è risalto non è risalto dodo si ed è giusto così dodo dodo meritatissimo meritatissimo sto mancato bene bene ci sono i rigori numero 9 Vlaovic 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 fiorettino bravi ragazzi bravi bravi ragazzi grandi dai dai fai ora ma dai allora 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 Alexio oh mio Dio oddio 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 c'è la stessa cosa la fiore finale oddio oh dai ma ma cosa ha preso questo dai ma si deve vincere già 3-0 sta giocando bene basta sta giocando benissimo si deve essere già 4-3 o 4-0 io non ho parole ragazzi non ho parole ho fatto un'altra parazione a provvederle io e non lo ammaiate la fiorentina vai vai tira tiriamo dunque l'Avice si ripete veramente qualcosa di pazzesco sui rigori non ha sbagliato uno poi ora magari se mi sbagliano tutti vai 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 nemmeno angolo peccato vabbè ma non vuol dire nulla ragazzi ma non mi ha pregato nulla cioè immobile ha fatto quando ha fatto 36 gol forza su ha fatto cioè dai è qui però è sportivo tranquilli non è uno non ti sportivo c'è uno sportivo e lui e viola io te vado insieme a te forza viola tu vado insieme a te viola viola e forza viola e viola e viola il primo tempo 1-0 godo godo merita fissa merita fissa non me ne frega rigore mi gratto più le palle è meritato 90 ho fatto tre parate prove delle mi pareva no il prime ma via madonna oh madonna dai continuiamo così vediamo vince questa partita dai allora che dire che dire stagionando benissimo primi minuti un po' così ma poi tanta roba tanta roba certo che si maiavi scusami per non fare così no no ma tranquilli ragazzi c'è no godo c'è un blavis al fanta si 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 godo dai ragazzi dai sarà una bella parte si ovvio che si allora ora andiamo a morire il titolo su YouTube torno subito poi ovviamente e niente certo che si allora aspettate vado a cambiare il titolo io tanto ci sono adesso io avanti sta di sì cioè io sono allo lo stadio sei avanti tutti però ecco ora io vado a modificare il titolo su YouTube e poi ritorno aspettate un altro grazie a tutti Grazie. Sono tranquillo, ci sono, allora, qualcuno sa perché non si vede l'UFQ, non ho capito, che sarebbe l'UFQ? Forse magari non lo so, magari è regno, non lo so, non lo so, è, non lo so. Lo so, proprio. Vabbè, ho bentornato. Oggi Home News, però si sa, è un po' la partita, però. No, se farà, se farà, ecco, diciamo, allora, il discorso è questo, è un calo succede a tutti, ecco, però, purtroppo questi vicoli campi 3D ragazzi, stanno rompendo le palle a tutti, veramente, veramente a tutti, che non è possibile. Non si può fare il genere, ci devono fare tutto loro. Mi ha detto, eh, lì. Siamo pure in Milano, gli interessi, da ora mettiamoci la felpa, vai. Qui ora, il predino. Ancora c'è da prestigio, aspettate. Ci sono tranquilli. Allora, allora, dobbiamo continuare a giocare così. Non c'è altro, ragazzi, l'altro. Non so che la bellezza la devo cercare. La devi coprire. La devi sentire. Però, allora, il cammino del futuro. Video la mia. Allora, il rigore non so se è vero, non lo so poi. Perché ero qui, quindi non si vedeva nulla. Qui da casa l'avete visto meglio, sicuramente, però. Ecco, diciamo che è tanta rotta. Per quanto riguarda lo spezia, ma, sì. A parte quel tiro all'inizio della partita, poi solo 9 minuti sull'attività. Ci deve essere già, ok, ok. Ci deve essere già 3 alzioni, minimi. Non si deve essere. Non si deve essere già 3 alzioni. Ma veramente, ragazzi. Almeno 3 alzioni. Perché ha fatto due parate tra vedelle. Pazzesche, veramente. Veramente pazzesche. Però si sta giocando bene. Si sta giocando bene. Non c'è nulla da dire, ecco. Non c'è nulla da dire alla Fiorentina. Si sta giocando veramente bene. Io dico esultare sì. Perché sei andato via da quella squadra, vuol dire che c'erano le palle. E quindi esulti. Non ha fatto Iguaino. Ok, il primo anno non è esultato, ma il secondo è esultato. Quindi, cioè, esulti, esulti. Secondo me è la meglio. Ecco. Allora. Allora. Non lo so nemmeno io. Però, se quel maledetto di provvedere a fare 3 miracoli, io non ci posso fare nulla. Alex. Ti avrei proprio il nome. Se si chiama Alex. Non ci posso fare nulla. Ha fatto 2 miracoli, provvedere. 2 miracoli ha fatto. 2. 2 miracoli. Quello su Sottilla. Quell'auto su Blav. 2 super. 3 miracoli. Se dovesse già 3 a 0. Minimi. Minimi. Come minimi. 2008-2005. Buca era stato. Danieri. No, forse Spalletti. Non lo so. Spalletti. Magari. Non lo so. Tutti. Spalletti. 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 Peccato. Cioè, se. Ci deve essere già molto più avanti le gol, ma ci si è fatta. Ecco. Io sono ancora il 49% di fila, di batteria. Io sono in pietro, ma non ti vedo. Allora. Guarda. Toglio dove sono. Allora, non so perché appunto c'è della pietro, va bene. Se tu devi guardare all'ultimo incrocio della tribuna, dalla parte del vento, dalla tribuna laterale, io sono qui. Grazie. 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 Vedo gente in cima con delle maglie viola, per la parte dell'amaratura, ma non ti vedo sicuramente, sicuramente, i pezzini non li conosco bene, quindi non lo posso dire, però mi diano, molti fanno schifo come persone, poi non lo so, eh, sicuramente non lo so. No, io comunque pancia non ti vedo proprio, ti vedo proprio, ti vedo, ti vedo proprio, ti guardo proprio. No, non ti vedo, non ti vedo. No, non ti vedo, non ti vedo. Ecco, comunque, se poi qualcuno mi vede in piègere e vuole salutarmi, a me va bene, non è che mi create problemi, ecco. non siate timidi, io non mangio nessuno, io sono, ecco, sono sempre qui, è un po' nulla. Al momento fai un ti vedo proprio, non so se ci sarà ancora, ma io non ti vedo proprio. E domani a Onnisanti, però buon Halloween, ecco, buon Halloween, quello sì, quello sì. Ah, rip, guarda, cioè, te la faccio vedere tutta, guarda, ho tutte e oggi, e poi questo qui è il toni sotto, non so se tu lo vedi, c'è qualcosa di pazzesco. Grande Arcangelo, buon pomeriggio. Comunque, io non, io Franci non ti vedo, se stessi sarà ancora live, ma io non ti vedo. Non so proprio dove ci sia. Non lo so proprio. Grande Esteban. Sì, qui sotto tu hai, mi sembra, sì. Ho visto, ho visto, ho visto. Tu, grande Esteban. Un po' sarrismo, sì, però voglio essere, lo stadio sinceramente, o mi metto il jeans con questa maglietta qui, bianca, questo piccolgiglio, oppure mi metto jeans, maglietta bianca e sopra una felpa, che di solito è questa, oppure vado con le mani dei giocatori, Gonzales, Drago, anche se sudi a becca con quelle, sono acetate, un po' fa acetate. E niente. Grazie, grazie. Comunque se bisogna continuare così. Però abbiamo fatto 18 tiri, ragazzi. 18 tiri, ragazzi. 18 tiri. 18 tiri. 18 tiri sono tantissimi, ragazzi. Per la sicurezza vostra e di chi ti sta intorno, vi invitiamo ad osservare le seguenti regole per tutta la vostra gradita permanenza all'interno dello stadio. Quando non si è seduto proprio, possiamo mantenere la distanza di almeno un metro. Allora, vediamo un po' quante views siamo e niente. E ora si... Comunque non c'è nessuno. Ma fra po', stanno entrando le squadre in campo. No, no, lo so, lo so. Tranquillo. So io ve lo blocco, eh. So io ve lo blocco, non ti preoccupare. So io ve lo blocco, non ti preoccupare. qui è la musica qui si fa qui. Sono voloso qui, eh. Stava bene al sole ora. Allora... Allora... Non c'è da nulla. Non c'è da nulla. No. 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 No, non c'è da nulla. No. 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 per un pezzo farò anche alla appena si arriva 25 per 130 se lo leggo e metterò power bank quindi le prego le cuffie e niente si domina dai dai sono a scaldarsi e spezia sostituiscono numero 21 salvatore numero 27 amia la mia al numero 29 il salsedo numero 7 sala salvatore salzero la madonna e poi il numero 20 bastoni numero 19 e con le madonna triplo cambio triplo cambio dello spezzo accidenti non no no tantesimo che fatica dimmi di verona verona e poi gli speck non sono giusto perché non è possibile 24 ecco non è iniziato tardi iniziamo nella norma tra le sostituzioni è tutto poi ci stai due di recupero ci sta più tardi il primo tempo più 5 15 15 15 15 53 15 ci siamo poi cambiano lo spezia e quindi un po e forza viola madonna che palle che palle veramente forza viola maremma buaiola tutta la settimana io penso solo a te forza viola un grande amore che sia la mia passione che cresce dentro me no 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 ragazzi da contiamo di 40 novesimo ma non manca ancora paranta stai amola fino al novantesimo dai dai ragazzi vai vai bella peccato corri corri secco valenco questa palla no madonna lo spezia attacca ora ok ma la mia festa solo a te no brutta sta palla ma che palla è sosteniamo la va 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 occhio occhio chiudilo chiudilo no ma lo spezia no via sta palla vi a sta palla sosteniamola sì boh lo so non lo so no 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 non male Palermo Apelleno 1-1 che cresce dentro me sosteniamola fino al novantesimo ma non penso poi dovevamo darmi le palle da tornare a casa stasera devo uscire non penso che fa anche il video no 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 brutta brutta sta palla no vai vai contropiede vai contropiede 3 metri sì per il gioco vabbè peccato 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 appunto il sessuolo stava rincendo ma non lo so devo andare a dire l'aspettate eh l'aspettate è si 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 Io non riesco a capire perché non ci sia nessuno e niente. No, 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 via sta palla. No, io sinceramente non capisco perché siamo andati fuori. Non lo capisco proprio, ragazzi. Si male, malattia, prendiammela malattia. La cosa che io non capisco è il fatto che quella con la Palantra, un'altra, 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 un'altra. Vai, 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 vai. No, 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 bravo. No, secondo me no. Allora, ragazzi, il discorso è questo. Io non capisco cosa sia successo perché, cioè, allora, se si pensa a come andavano prima rispetto ad ora, io non lo so. Le soluzioni sono due. Io non devo smettere perché no. Però magari potrei fare, invece di fare la live, potrei fare la reaction e basta. Magari, non lo so, eh. Beh, chiaramente non lo so, ragazzi. E poi fare il video e montarlo e il giorno dopo esce subito. non lo so, non lo so, ragazzi, veramente, perché... Ma non questa, anche le altre. Vai, 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 ora, vai, ora. Dai, lo farò, lo farò. Eh, va. Nonna sottile. No. 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 Non c'è nessuno, ragazzi. Sette spette. No, aspettai un attimo, eh. Cioè, non siamo nemmeno in liberi di fare una live sulla scuola del cuore. 300 spettatori. Io non ce la faccio, veramente. Ciao Vinci, vento riso. Cioè, allora, più bisogna trovare una soluzione a tutti i host, la trovare a tutti i host. Già tra poco va anche mettere il power bank. Cioè, allora, eh, io veramente sono allibito da questa live, cioè... Ma veramente, ragazzi, occhio qui allo Spezia. Chiudilo. Io non ho parole. Io non ho parole veramente. Ma nulla, sono sconvolto dal discorso dell'Ispec e dalle news. Non si fanno più le news di prima perché c'ho tutti i esempi di 3D. Poi l'inizio anch'io perché veramente, cioè... Non è possibile uno scritto del genere. Cioè, non... Non lo so, Bo. Vai! Vai! Ci farò? Vai! Mi guarda, non ho sbagliato. Alle 6. No! 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 Non è possibile. Ora... Vorrei power bank, ragazzi. Se no, dopo volessi fare post partita, se la farò nemmeno a farlo. Mi dovrei levare le uffe. bene aspetta allora se non vi sentirete ora però sono qua in questo modo a tutti i osti perché se no non c'ho pila e dopo non c'ho pila per te allora allora come vi sentite non lo so non lo so non so che fare ragazzi veramente se non lo so è veramente male veramente siamo sei bene guardate quante musica siamo io sinceramente continuo ad esserci convinto perché non è possibile fare live con poissimi specchi in questo modo non è possibile ragazzi mentre altro solo che palle ragazzi che palle non mollare sono venute e quindi adesso si dice il numero è venuto ok non è possibile non è possibile non è possibile sito avventura nooo nooo guarda questo no 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 siamo messi male ora sapete poco quando non c'è nessuno ecco qua non c'è nessuno in live io non ho parole bravo terra bravo bravo terrazzano gorezzina reale va 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 no 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 che sta palo c'è come è successo qualcosa ma come è successo qualcosa non c'è bella Sì doppiezza di Dusan Lovis Sì 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 Non lo so Ora guardo Davide Sì Sì A casa dai forse Ci voleva Ci voleva Flavie 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 Sì No 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 Sì Sì Grazie Grazie Ciao Rocco Buon pomeriggio Benvenuti a live Grande Simpatizia Frentina Mi raccomando Se sei nuova Scrivetevi al canale Mi raccomando Sì Doppietta di Vlade Ci sono il pantacalcio Se sei nuova No 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 Ragazzi Bella Bellissima Meritavo Meritatissima Tu a zero No 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 Eh Dusan Non va a criarla Bisogna 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 Supportarlo Finché giova a noi Ma con questa doppietta Si dimostra ancora Un grande attaccante Quindi È il Settimo gol Ce l'onero Per Dusan in campionato Ed oggi L'oppietta eh Insomma Eh Occhio Occhio Vai 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 Sempre Sempre Sì Sempre 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 presente Sempre presente Con dieci verde Godo Ciao Maggiore Vai via vai Maggiore oggi ha fatto pena eh Pena Entra verde al suo posto Eh Numero 44 Strele Numero 9 Manai Manai al posto di Sirelezza Yes Sessanta Tresimo Sì Più o meno Sì Sessantacinquesimo quasi Sessantacinquesimo 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 Amici Sessantacinquesimo 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 Ti impazzisco perché questo capo d'amore che ci lascia raccordi. Dai, ti impazzisco perché questo capo d'amore che ci lascia raccordi. Ti impazzisco perché questo capo d'amore che ci lascia raccordi. Ti impazzisco perché questo capo d'amore che ci lascia raccordi. Lo so, lo so, ma allora, allora, non voglio parlare, allora. Ora vi diranno, eh, c'hai 1.600, eh, tutto. Ma io so, uno c'ha 300 spett, uno c'ha 30, uno c'ha 50, 60, come si fa? Mettila dentro per Blavio, c'ha una tripletta almeno. Tira, tira, mare, mare, tira. Però io non ci posso fare nulla se questi fanno 300 spett. Bello! No! Non ci vedo. Vincino al 3 a 0. Non lo so, Cris, non ce lo farò. Prova a fare, se ne fa a fare, non è niente. Si rialza, si rialza. Buona, 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 buona. Buona, buona, buona. Buona, buona, buona. Buona, buona, buona. Buona, 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 buona. Intra male? Non so, posti, trix, su, pill. No, che dai, oh, no, 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 no. No. No, c'è il cajon. No, cajon, no, no. Dai, qui. perché non lo so se la prestazione scandalosa sono zitto zitto che era a 8 punti ora si ritrovavano 17 punti mai sbagliano facciamo il 3 a 0 e si va tutti a casa dai che ci lascia dai va 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 vai 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 mettila fuori questo campo ora ci lascia la corpia no 2 a 0 no 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 però potrebbe starci non lo so per 0 lo spero anche no ma magari forse non lo so abbiamo reclamato rigore ma non so se c'è non lo so aveva reclamato saponara mi sembra no ci sia non c'è nulla mi sa 2 a 2 2 a 2 2 a 2 eh chino tante beccolero eh vai 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 eh la peccato dai 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 forza occhio chiudilo via fuori adesso vai bravo dai ragazzi questo falla faccio la cosa quello spezza madonna dai cantate forza grande fiorentina vincendo il coro per il bambino dai via bravo vai bella va in mezzo ma no ma che era sta roba allora il primo su rigore il secondo l'ha fatto dentro l'area l'ha appoggiata di sinistro praticamente non a porta vuota però era davanti alla porta all'altezza del dischietto con meno angolino basso proprio dall'immobile ed è 2 a 0 si io c'è il coro che mi salve canzolero dai ragazzi dai ragazzi ora sono dei 6 rispetto vedete io non capisco sta roba io non la capisco proprio io non la capisco proprio però non capirla cioè o sono volte perché non è possibile ragazzi dai guarda vabbè no oh mio dio terra è che scivolate madonna vai Vlaovic vai Vlaovic vai Vlaovic vai Vlaovic bravo tira tira ma tira buona tira два tira tira cernata cernata Sì! 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 E per la Fiorentina ha segnato il numero 9, Gussan! Vlovi! Vlovi! Sì! 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 E dite che hai scarso! Dite che sei la sua sui rigori! Forza, ditelo! Stupidi! 18 Torreira, gol 34, andrà fatto! Oh! E finisce qui! Lo spezia va a casa! Sì! Andamene! Sì! Marema! Puttana! Marema! Damosi! Forza! Grande Fiorentina! La doffa, lo dè, palla! Il tripletta di Glavic! Sei al Panta! Godo! Marema! Marema! Ma ci voleva tanto a fare tre gol a questi pipponi! Godo! Tornatevi nella spezia! Maledetti! Godo, ragazzi! Godo! Aspettate, mi dico il titolo! Vero, non è un po' di chiudere! Vero, non è un po' di chiudere! Non è un po' di chiudere! Sei, sei, sei così, dai! Fiorentinale! Dai, dai, tutti a Torino! Tutti a Torino! Sì, tutti a Torino! No! 3 a 0 secco straveritato straveritato non prendiamo colpi non prendiamo colpi non prendiamo colpi per favore ci può arrivare una partita senza prendere gol grazie grazie ciao Tommaso comunque si davvero guarda se fa 4 gol io guardate sto spettacolo questo si conosce il pezzavolo ale 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 tiramonte si si parecchio si almeno se lo rimane sotto dai così si ale ale non me lo riorgo ora me lo riorgo era veramente piccolo vai per il 4 a 0 vai no no per poissimo verona nel cuore verona nel cuore sempre ricordatevelo è la è la è il cuore e ale 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 grande te Marco veramente certo 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 quel coro e ale ale viola ale viola speriamo vabbè pure quella me ne vado a trontare andrei ovunque fare tutte le live da tutti gli stagli esteri no maledetto oh no no oh no facciamo 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 stasera vai dalle a plato ci falla il poker vai no peccato e ale magari magari ha condotto varie puntate non mi ricordo la puntata però la conosco sulla maremane sulla sulla rai penso di sì grande leo grazie 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 oh 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 sento verona nel cuore io ho dato no no stasera no stasera mi godo la vittoria fuori vado a cena fuori per adesso voglio qualcosa fuori ecco vado a svolgere amici domani mi riposo che non voglio vedere la faccia orrenda polonia agli agli strana ma la voglio vedere e poi noi ci rivediamo martedì no ci sta anche la faccia doppia dai sì martedì no penso di fare quella delle robe occhio no 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 chiudilo chiudilo bella roba oggi ma sì dai comunque allora vediamo di altre osse allora il mio pallone è orrendo questo va bene ale ale allora stavo riscendo cerchiamo di allora ora c'è la Juve d'In sotto di noi vado ci aggancia c'è il Panta sì 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 ok davvero eh sì vai per i qua dalla Blavich ti prego dai voglio fare il poker dove è Blavich ma dalla Blavich no dalla Blavich ma dalla prima Blavich voglio il povero di Blavich voglio no 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 anche domani sono fuori a cena voglio riposare voglio godermi sto vivendo lungo fino a martedì e via e poi si rinca non è fregato nulla mamma mia bravi ragazzi grandi ragazzi grandi ragazzi grandi bene ora a parte gli scherzi però per la partita torno a casa mi preparo mi sistema e poi esco e poi vado per la mia città vado per la mia città dove sto io sto a mezz'ora a Firenze ma giro la mano alla Firenze non mi preparo nulla grazie grazie no no ma non ho più voce oggi quanto andiamo urlando oggi no no allora io ve lo prometto nel caso si dovesse andare in una competizione europea io andrò in almeno almeno a due trasferte su tre del girone ve lo prometto ve lo prometto segnate per ora ve lo prometto Ale Ale Fiora Ale 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 oh 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 sì dai un altro un altro Q3 lo vorrei però se va bene già così vabbè ovviamente San Siro no via sta palla oh grandi ragazzi madonna grandi ragazzi secondo primo tempo tanta roba alla live metà cioè intervallo insomma e ora bene va bene eh grande bravic nico mi dici quanto ha preso bravic con il giallo compreso io spero almeno 17 e mezzo no sì no no se si va in Champions compro la benedica corin se si è arrivato alle prime sette mi dipingo un po' i capelli di Gliola sconfermato perché sono brividi sinceramente comunque ciao Gillo un primo GZ brividi quello che hai scritto sempre forza Gliola sempre sempre ma che dici non mai non mai se passiamo da nove non può per le otto e mezzo dai scusi ma di nove sarei mai riflessa il fatto vero sì che Simone ha chiuso nove con un pover però non ha senso dai e la sosteniamo no la fiorentina la fiorentina e la sosteniamo no la fiorentina ma è vero l'ha segnato cioè no non è possibile ragazzi ma che ma veramente signor l'Empoli ma veramente Empoli a fare i punti o la Juve non ho parole sempre su azione davanti alla porta bella azione a porta vuota il nostro amico Turchoschi grande la fiorentina e la sosteniamo no la fiorentina ma va bene va bene è come immobile ragazzi anche immobile ha fatto sempre così rigori gol è tutto ma è un gran giocatore anche immobile anche se c'è avuto un buon periodo però è sempre un buon giocatore ma guarda questo ma vaffan domo questo è la fallo io non ho parole d'uomo dell'Empoli io veramente l'Empoli vola 15 punti bello genna deve essere la ballardina a tutti che fallo allora mare ma cane mare ok ora posso staccare questo se ne mette le uffette e lo sosteniamo no la fiorentina ma tiramo e lo sosteniamo no la fiorentina ma tiramo e lo sosteniamo no la fiorentina ma la fiorentina ma e la fiorentina ma lo sosteniamo no la fiorentina ma la fiorentina ma vedi accidente a me quando l'ho messo Simeone oltre la Juve io avrei vinto forse ma avevo Vlavic messo liberi sono un imbecilo ma chi è chi è Tommy comunque ciao Tommy ma allora il Verona è già da tre anni è forte però si è ripreso si è ripreso non ha fatto un inizio assurdo un punto in tre partite se non zero e niente si è ripreso e io godo grande sempre nel cuore Viola e Buidei sempre fratelli guardatevi grande vittoria oggi grande vittoria di tutti bella prestazione da parte di tutti ovviamente Vlavic sopra tutti la tecletta va bene va bene allora che dire che dire che dire che dire abbiamo usato veramente bene complimenti complimenti la felentina tifosi ospiti per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza siete prati di attendere nel vostro settore fino a quando ritenuto necessario grazie no terra no brutta la trovo la la c'era sosteniamo no isabili francesca isabili francesca si è usabili francesca e la sosteniamo no la fiorentina amo la sosteniamo la fiorentina la fiorentina amo che bellezza mamma vedere i miei tifosi nostri tifosi così belli va bene anche così samurai dai va bene così se toto se a casa entrambi in via andranno scherzo te l'ho detto usavo di francesco tantanovesimo sempre meno per questa storia pazzesca tanta roba oggi no no si era di francesco lo ho detto si 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 fermo mi dispiace tanto per te però io volevo avere bisogno di una vattene di un grande no Torino è sempre a granare Torino è sempre a granare tempo di recupero 3 minuti ma per cosa non lo so nemmeno io guarda grandi ragazzi dunque Frentina batte lo Spezza 3 a 0 amici ultimi minuti in live noi facciamo un po' spartita e poi ci vediamo martedì sera penso chi non salta è bianco l'oro chi non salta è bianco l'oro è bianco l'oro ah per cazzo sta palla no no stasera sono fuori chissà che sono fuori grandi ragazzi grandi ragazzi grandi ragazzi bravo bravo vai per il 4 a 0 vai vai Firenze 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 ma mai troppo lungo fila fila no non lo so spalletti sì ma vi c'è sempre vabbè ci siamo la signora ci siamo la frentina dunque ma spezia 3 a 0 si trova la vittoria e la spinta brutta a roma ralazzo niente e niente ragazzi finisce qui post partita e poi ci rivediamo ciao ragazzi